Rosetta Fulvi, nuovo presidente del Consiglio Comunale di Fanno al posto di Renato Claudio Minardi, eletto in Regione, Cristian Fanesi, settimo assessore della Giunta Seri, con delega ai lavori pubblici. E' quanto deciso dalla segreteria del Partito Democratico che nella seduta di ieri ha raggiunto l'accordo mettendo fine ad una lunga trattativa. Prima di tutto Massimo Seri, il nostro sindaco, ha chiesto al PD di fornire dei nomi uomini e donne che servono per rafforzare la squadra di governo e soprattutto andare all'avvicendamento di Renato Claudio Minardi che è stato eletto in Regione dopo una campagna elettorale che l'ha visto vincitore nel maggio scorso. Quindi il Partito Democratico ha espresso nomi di uomini e di donne, in questo caso il mio e quello di Rosetta Fulvi, come persone che si mettono a disposizione di un progetto politico, si mettono a disposizione del sindaco Massimo Seri che in piena autonomia deciderà quanto vorrà disporre per rafforzare la sua azione di governo. Io credo che in tutto questo il PD ha stabilito anche un altro concetto, anche all'interno dello stesso partito, che occorre rafforzare il rinnovamento del PD per dare un contributo maggiore al governo di questa città e quindi penso che a breve si arriverà a un rafforzamento a tutti i livelli del PD sia a Fano che in provincia con la presenza anche di esperienze nuove, di quarantenni che hanno voglia di misurarsi e che condividono un progetto politico. Ad intervenire sull'argomento sono stati anche i 5 Stelle. Abbiamo atteso con il fiato sospeso per tutta l'estate, hanno detto, e alla fine dopo tiri e molla i giovani si sono arresi e hanno alzato la bandiera bianca. La safetta tra Minardi e Fulvi, prevista da noi fin dalla campagna elettorale, è stata accettata come inevitabile. Fanesi, che da sempre ambisce ad una poltrona più comoda di quella da consigliere comunale, concludono, contrariamente a quanto desiderato si accontenterà di un assessore part-time e forse pure gratuito. A confermare l'ipotesi di un ruolo a costo zero è il sindaco di Fano Massimo Seri che dovrà prendere la decisione definitiva. La persona in più è sempre comoda, ma io ho sempre detto che un'azione del genere... A costo zero, questo l'ha sempre specificato. Esatto, ecco, perché non voglio che si strumentalizzi questa cosa e poi in un momento come questo bisogna partire e dare il buon esempio. E la politica deve dare il buon esempio, l'abbiamo dato noi, lo spiegavo l'altra volta, facendo dei gesti concreti e non chiacchiere. Per cui quando ci sono le condizioni e quegli elementi che io ho richiesto, lo farò. Però voglio dire, non è una cosa che andrà per le lunghe. Grazie. Grazie.